La comunità di Carda ha accolto l'arcivescovo Fontana all'interno del suo percorso della visita pastorale, una messa celebrata nella chiesa di Santa Flora e Lucilla. Come è andato il confronto? È abbastanza costruttivo, mi è sembrato, ma almeno il vescovo parla un po' come noi, ragiona un po' come noi. Insomma, è moderno, diciamo, come sacerdote, perché un tempo non ragionavano così. Almeno è quel che ricordo io, che ho quasi 90 anni. Ora invece è un'altra cosa, ci danno almeno la libertà di pensare e di decidere, secondo il nostro modo di vedere. Ecco, secondo lei è un appuntamento importante quello costituito dalla visita pastorale che permette anche di confrontarsi, di aprirsi ad un dialogo costruttivo che permette anche una maggiore unità nell'intero territorio diocesano? Certo, certo, questo per me è stato qualcosa di bello, di buono. Ecco, abbiamo un prete, un gran prete, diciamo. Anche lui è nato qui, è stato poi, dopo il ordinato sacerdote, è stato sempre fra noi, quindi ci si conosce bene. E il suo modo di interpretare la fede cristiana è piaciuto a tutti. Grazie. 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 Grazie.